Iniziamo comunque giovedì sera con un tema dal titolo l'Italia del Montepulciano. Quindi la sommelier Valera Cesari e il sommelier Fabio Petrangi li presenteranno la serata in piazza Garibaldi con sueta degustazione dei vini, con i vini di alcune aziende fuori dalla regione Abruzzo che producono Montepulciano. Saranno presenti in degustazione comunque anche aziende della nostra regione, la regione Abruzzo, proprio per mettere non a confronto ma per far capire come il Montepulciano viene coltivato e viene interpretato nelle varie regioni d'Italia. Ci trasferiamo alla seconda serata, quella di venerdì sera, una serata molto importante tra l'altro perché da qualche anno noi abbiamo aderito al Montepulciano Blues e durante quella serata ci sarà l'Inda Valori, quindi una serata che presumiamo sia molto partecipata. Ci saranno dei percorsi del gusto con un comparto di persone che non supereranno le 30-40 persone che andranno a degustare i prodotti tipici della regione Abruzzo, di tutte le province, in abbinamento con alcuni vini di controguerra, di produttori di controguerra. Arriviamo alla serata di sabato, serata di sabato completamente nuova, un format completamente nuovo che proponiamo alla platea, si intitola Cosa bolle nel bicchiere. Cosa bolle nel bicchiere perché? Perché cerchiamo di andare a individuare i retroscena che si svolgono sia durante la coltivazione della vite, quindi tecniche di coltivazione, ma soprattutto quello che succede nel momento in cui il grappolo, l'uva, viene portata in cantina e da là inizia la lavorazione dell'uva fino a che non diventa vino, non viene messa in bottiglia e viene appunto predisposto per essere immesso nel mercato. Quindi è una serata dove parteciperanno otto aziende della nostra regione, tutta la regione Abruzzo, e questi produttori verranno rappresentati dagli enologi. La conclusione è domenica 12 luglio. Sì, piazza Garibaldi, domenica 12 luglio, quest'anno torna il nostro vecchio amico che ha intrapreso un rapporto con noi nel 2008, quest'anno chiude la serata appunto Paolo Lasciani, il sommelier prima di Gusto, canale 5, adesso la prova del cuoco con Antonio Laclerici, viene a chiudere una serata con un argomento a noi molto caro, sul quale l'amministrazione comunale e penso i produttori di Controguerra e anche il Centro Sociale Giovani Anziani, che appunto organizza la manifestazione e appunto punta molto su questa manifestazione. Noi puntiamo molto su questo tipo di argomento, la Controguerra ad hoc.